Presentata a Roma la settima edizione del Festival del Tango che si svolgerà anche quest'anno a Trani dall'11 al 14 luglio a cura dell'associazione in movimento e con la direzione artistica anche quest'anno di uno dei più grandi ballerini di tango al mondo, Miguel Angelzotto. Questa è la settima edizione, cresce sempre di più ogni anno e ogni anno investiamo sempre di più in contenuti. Quest'anno i numeri sono pazzeschi, abbiamo 16 ballerini professionisti, quindi tantissimi, quindi 8 coppie straordinarie, una più bella delle altre, due orchestre che suoneranno naturalmente rigorosamente dal vivo, formate da 8 elementi con cantante e 4 TJ, TJ veramente internazionali che allieteranno le milonghe insieme a queste due orchestre. Quindi numeri veramente che crescono di anno in anno e soprattutto una location spettacolare che è quella oltre di Piazza Duomo per le milonghe, quella della biblioteca comunale, quindi una location culturale pazzesca. Il festival è sempre più, ogni anno sempre più internazionale, con sorpresa anche da parte nostra e felicità, riceviamo iscrizioni veramente da ogni dove. Quest'anno abbiamo delle presenze americane, oltre ai russi che si riconfermano come l'anno scorso grandi protagonisti del festival di Trani, tedeschi, francesi, spagnoli, portoghesi, greci e chiaramente tantissimi italiani. Io soltanto quello che ho fatto è andare a vedere di che cosa si trattava l'anno scorso e sono rimasta veramente sorpresa ma soprattutto emozionata. Emozionata perché ho visto questo talento artistico che è sotto, ma al di là ho visto uno spettacolo con la vita di Piazzola, lì nel lungomare e Trani, una città che mi ha colpito tanto. E continueremo questi legami. Quando ho conosciuto Trani che mi hanno invitato la prima volta mi ha innamorato veramente della città e quando ho investigato che il nono di Astor Piazzola è nato lì, ha partito la storia anche di Trani e ha detto questo è un punto importante per creare un legame entre Trani e Forte e l'Argentina e il tango e i Trani. Astor Piazzola è un figlio della nostra terra che noi rivendichiamo fortemente, del resto uno col cognome Piazzola non può che essere figlio della nostra Trani. Astor Piazzola rappresenta tanto per l'Argentina ma soprattutto per il tango argentino. Grazie all'associazione Il Movimento che credo sia addirittura la settima edizione del festival, che crede sempre di più in questo festival, è chiaro che il tango sta diventando una, diciamo oramai, ciò che caratterizza anche la nostra città. Grazie a tutti.